Quattava edizione di Atelier Spazio Performativo, quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono sicuramente un più ampio spazio dedicato alla formazione perché ci siamo impegnati nell'organizzazione di un seminario internazionale che si svolgerà nella settimana di Pasqua dal 28 al 31 marzo con la partecipazione di Milton Myers che è un po' il direttore artistico del Jacob Spillo che è questo seminario internazionale stabile che esiste in America da 40 anni di cui è il direttore artistico da 32, è il padre della tecnica Horton in tutto il mondo è il direttore artistico, ex danzatore, coreografo e diciamo nella Faculti della Vileli di New York e sarà qui proprio per un seminario intensivo sulla tecnica Horton insieme a Max Luna III primo ballerino dell'Albinelli. Ricordiamo quanti sono gli appuntamenti e dove si terranno? Gli appuntamenti sono quattro come diciamo è tradizione suddivisi in due appuntamenti dedicati specificamente al teatro performativo e due invece più squisitamente dedicate alla danza si terranno a partire da 28 gennaio, domenica prossima fino all'11 marzo presso il Teatro Nuovo di Salerno alle ore 19. Aiuto Loredana nella direzione artistica con Atelier e chiuderò la rassegna l'11 di marzo dato che mi occupo esclusivamente e prettamente di teatro vi invitiamo semplicemente a venire. Grazie a tutti.